il senso numero 15 non c'è solo questa qua le farine magiche quelle che profumano di grano l'italia che vorrei io è libera sempre e ci rende liberi di essere noi stessi contraddittori diversi deboli e folli c'è un'energia nuova più vicina al futuro amori della zia mica potevamo raccontarvela così è nata post energia l'energia vicina da oggi luce e gas li trovi all'ufficio postale un'offerta su misura per te bolletta fissa per 12 mesi e zero costi nascosti scegli post energia porta la tua bolletta all'ufficio postale e scopri l'offerta per te pasta armando nasce da un patto con una comunità di agricoltori per coltivare grano di alta e selezionata qualità con zero residui di pesticidi e glifosato pasta armando la cura del grano buona questa cura lo sai che quando canti bruci sette calorie perfetto quindi posso mangiare un altro cucchiaino di aerolight alle fragole che ha più gusto e meno calorie aerolight alle fragole la confettura senza zuccheri aggiunti con solo sette calorie a porzione veneta cucine uno spazio aumentato per la tua casa e la tua vita lungo parma lieto vivere look impeccabile risultato professionale palette olio intense risultato colore intenso con olio di ergan per un supremo nutrimento colorazione permanente senza ammoniaca per il 100 per cento di copertura dei capelli bianchi palette olio intense scopri tutte le nuance di schwarzkopf palette la colorazione numero uno in italia da conad per te che cerchi di risparmiare ogni giorno su tutta la spesa ci sono i nostri filetti di pollo sempre convenienti carne 100 per cento italiana da filiera controllata buona tenera e saporita con la qualità conad porti qualità anche alla tua vita filetti di petto di pollo conad percorso qualità a 3 ore 70 e centinaia di altri prodotti a prezzi bassi e fissi li trovi anche su spesa online punto conad punto it conad persone oltre le cose se vuoi andare d'accordo con lei se sulla scena del crimine stai zitto è meglio lui è tornato si nasconde fra gli alberi so solo che è grandissimo sei una bambina molto intelligente e molto molto coraggiosa io non ci credo io me ne frego di quello che crede lei prima dobbiamo provare che il fantasma esiste davvero o lo fermiamo subito o il nostro assassino colpirà di nuovo Elena Sofia Ricci in venite qui abbracciatemi sono abbastanza larga per tutti e quattro fiori sopra l'inferno da domani alle 21 a 25 Rai 1 sei felice oggi? mi tanto in colpa sono stata io a dirgli di domandarsi tutte le mattine se è felice devi compiacerlo farlo sentire importante quanto sei intelligente quanto sei colto quanto sei bello sono venuta a dare una mano cosa c'è da fare? ragazzo lascia stare il cappuccino rilasciati che ci penso io devi parlare con sua costanza perché ci sta rendendo la vita impossibile si è interrotto qualcosa sono riuscita a entrare in contatto con Esther Folli e lei ha consentito a venire qui le ho detto che era per un'iniziativa benefica le ha mentito sta diventando peggio di me wow che Dio ci aiuti giovedì 21 e 25 Rai 1 porta a porta speciale elezioni regionali domani seconda serata su Rai 1 è finito tutto è finito tutto è tardissimo sono le tre meno un quarto di notte ha vinto Marco Mengoni con due vite è stata una settimana pazzesca adesso è finito tutto ma ha iniziato tutto cinque giorni fa stiamo per cominciare regalare che vede a questa Ciao